Questo apparecchio si chiama Fibroscan, si tratta di un'apparecchiatura dotata di una sonda che viene appoggiata sul torace in corrispondenza del lobo destro del fegato. Questa sonda emette una vibrazione meccanica che si trasmette all'interno del fegato con una velocità diversa a seconda che l'organo sia sano o vi sia un accumulo di grasso o vi sia per esempio fibrosi o cirrosi e quindi che rende i tessuti meno elastici. Infatti si tratta di una elastometria. La sonda è collegata ad un computer che calcola la velocità di queste vibrazioni meccaniche e le traduce in un numero che indica appunto lo stato di salute del fegato. Gli studi eseguiti sinora sulla fibrosi hanno dimostrato che esiste una forte corrispondenza fra i dati ottenuti con Fibroscan e quelli riportati con la biopsia. È uno strumento utilizzato nel monitoraggio in fase di assunzione di un prodotto alimentare o per conoscere la struttura del fegato di particolari categorie di soggetti. Grazie a tutti!